Qualcosa si muove in città anche per il recupero del forte spagnolo. Partono infatti i lavori di restauro al castello cinquecentesco dell'Aquila. La notizia da parte del segretariato regionale dell'Abruzzo finalmente è arrivata perché sono stati consegnati i lavori di restauro. Si tratta del primo lotto. Ovviamente ci vorrà del tempo per vederlo nel suo splendore iniziale se si considera che per concludere il primo lotto, come dice anche il segretariato, si stimano 630 giorni di tempo. L'importo dei lavori ammonta a 7 milioni di euro permetterà il recupero dell'ala d'ingresso e di quella di sinistra, compreso il restauro dell'area che fino al 2009, come tutti gli aquilani sanno, ha ospitato la sezione archeologica del Polo Museale d'Abruzzo. L'impresa LRT, guidata dalla SAC, Società Appalti e Costruzioni, irruppa l'architetto Patrizia Tomassetti, mentre la direzione dei lavori è stata affidata all'architetto Antonio Di Stefano. Come ricorderete nel 2015 la città riabbracciò anche il mammut del castello. Furono più di 10 mila le persone presenti. Il restauro del mammut è stato possibile grazie a una donazione di 602 mila euro concessa dal corpo della Guardia di Finanza. Ci fu un'apertura straordinaria, proprio per ammirare da vicino lo scheletro del mammut, che a quei tempi era stato oggetto di un intervento delicato, molto delicato, di restauro. Grazie. Grazie.